Un colpo di sonno che poteva risultare fatale. Invece, per fortuna del giovane protagonista, si è risolto con un terribile spavento e un'auto semidistrutta. Erano da poco passate le 14 quando un giovane che tornava al lavoro dopo la pausa pranzo si è addormentato per un attimo alla guida, all'altezza del curvone di Pontiacchiani del raccordo che porta verso l'autostrada. Per la fortuna di chi percorreva il raccordo in quel momento, la corsa senza controllo dell'auto è finita fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. Altrettanta fortuna anche per il guidatore. Fuori della carreggiata ha trovato un colossale cespuglio che ha rallentato la corsa del mezzo, impedendo conseguenze gravi. L'auto si è comunque rovesciata e schiacciata, ma il giovane ha potuto uscire con le sue gambe ed ha potuto raccontarci personalmente di aver avuto un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e prevenire il rischio di incendio nel grosso cespuglio. Per i rilievi di legge invece due pattuglie della Polizia Municipale di Arezzo.